abbia rifiutato l'offerto dell'atletico pari ai 40 se non sbaglio Antonio Conte se n'è andato proprio per questo Bettino, Antonio Conte ha detto basta io non continuo il mio percorso con l'Inter perché non mi garantiscono una squadra all'altezza delle altre big non mi fanno mercato, mi vendono i migliori giocatori motivo per il quale Antonio Conte ha scelto di abbandonare l'Inter ci dobbiamo fermare per la pubblicità piccola pausa perché tra meno di 10 minuti comincia l'amichevole dell'Inter contro il Lugano allo stadio Cornaredo piccola pausa, a tra poco rimanete con noi questa partita sarà anche l'occasione per Rajan Angolana di mettersi in mostra agli occhi di Simone Inzaghi visto che non ha trovato fortuna con Conte ma non è un messaggio, è una foto, ti dico solo che è una foto ma lo scopriremo più tardi andiamo ancora in cronaca perché la palla, certo che la faccio vedere, figurati questa occasione d'oro palla per l'Inter, ha questo risultato ci dobbiamo fermare per la pubblicità così cercheremo di capire è Alfio che vede nero, vede il gioco dell'Inter ma se non lo ricordi, la popperona lì ma se il donna Roma del Ticino qui non ha fatto una parata non ha fatta una, quella che hai detto che era un po' di poso per il cronometro lo stoppiamo fatemi andare da Bettino Caicaterra un Inter, c'è la sentizione, Angolana un po' polemico se la prende con chi Alfio? se è riuscito a catturare il labiale c'è anche un cambio per il Lugano un aggiornamento per quanto riguarda la Lazio anche la Lazio ok, la Lazio di Sario che è all'esordio perché nella Michievole c'è un percorso tantissimo, si è sempre distinto, scrive Giatini fuori Raja Nainggolana no, ma perché mi giochete Raja? per andare in pubblicità, tra poco ha vinto lui, indipendentemente dalla sua carriera vincono sempre i soldi questo è quello che non riesce a chiare ti vedo davvero esaltato sì, è esaltato mi sembra che abbiamo fatto 5 gol in trasferda non sono po'